Intesa tra Palazzo Donini e Federpharma, nei prossimi giorni la somministrazione del siero in 120 farmacie Umbre. Rare le prenotazioni negli hotel aperti solo al 50%, la nostra intervista al presidente di Federalberghi Umbria. Riparte il settore della Cosmesi, che ha subito forti perdite. Lezioni di make-up a Bastia Umbra. Pompeo Chiattini, da Carnaby Street a Perugia, una vita al servizio dell'alta moda. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale della Scuola di giornalismo di Perugia. In studio Alessandro Ferri. Raggiunto l'accordo tra Regione e Federpharma per i vaccini in farmacia. La curva dei contagi intanto continua a scendere in Umbria. Ci colleghiamo in diretta con Luca Bianco. Sono 99 i casi di coronavirus registrati in Umbria, in deciso caso rispetto ai 131 di ieri. Anche il rapporto tra tamponi e positivi è in discesa, ormai intorno all'1,4%. Si registra un decesso e i ricoveri in ospedale scendono a 162, mentre le terapie intensive si mantengono stabili a 22. È stata raggiunta intanto la quota di 334.000 vaccini somministrati in Umbria. Secondo l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, la campagna è destinata ad accelerare grazie all'accordo raggiunto tra Federpharma e Palazzo Tonini. Nei prossimi giorni, in 120 farmacie delle province di Perugia e Terni, potrà essere somministrato il vaccino. La diffusione capillare delle farmacie, ha detto l'assessore, sarà fondamentale per aumentare la tempestività della campagna in corso. E notizie incoraggianti arrivano dal mondo della scuola. In particolare negli istituti superiori Umbri, tra i 40.000 studenti sono stati riscontrati solo cinque casi positivi, con tre classi messe in isolamento. Da Perugia per il momento è tutto, a voi la linea. Assisi, città simbolo del turismo religioso, appare ancora deserta. I visitatori sono rari e il settore del commercio è in seria difficoltà. Le associazioni di categoria lanciano un grido d'allarme per il futuro. Ce ne parla Alberto Vigonesi. Il lockdown non sembra quasi essere terminato ad Assisi. Tra via San Francesco e Corso Mazzini regna il silenzio. Turisti pochi, giusto una manciata, in una vista diventata ormai familiare, ma per nulla gradita. Città turistica per eccellenza, Assisi è legata a doppio filo a italiani e stranieri che vengono ad ammirarne le bellezze. Sono quasi 200 le attività commerciali presenti nel solo centro storico. Molte sono in grande difficoltà, tra affitti, utenze e tasse arretrate da pagare. La luce in fondo al tunnel non si vede, neppure ora in zona gialla. Una pandemia non la potevamo prevedere. Siamo completamente azzerati. Abbiamo, non abbiamo più, mi piace dire spesso delle attività, abbiamo delle passività. Le nostre aziende continuano a maturare debito senza un'attenzione particolare. 12 le manifestazioni negli ultimi mesi per sollevare il problema. Voglia di parlare ce n'è poca tra i commercianti, ma una frase è ricorrente. Oggi è peggio del post terremoto. Ci chiamate, li chiamate negozietti. Questo non ha una valenza negativa, non è un commercio di serie B. Sono aziende sane che hanno assolutamente bisogno di essere traghettate al di là di questo guado. Un anno fermi, dimenticati, senza indennizi per questi piccoli negozi a gestione familiare che svolgono anche un ruolo di sentinella del territorio. Quando chiuderanno le nostre luci non si sa se riapriranno e le nostre città d'arte non saranno più le stesse. Per la ripartenza del settore turistico a pieno regime bisognerà aspettare almeno fino a giugno. Questa la previsione del presidente di Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia. L'intervista di Francesco Ferrasin. Dopo tanti mesi che siamo fermi e siamo chiusi si è addirittura incrostato. Mesi di zone rosse e chiusure hanno inaridito tutto. Prenotazioni, flusso di turisti e addirittura il gel per le mani che gli alberghi avevano preparato nelle holle in attesa di poter riaprire. Con il ritorno della zona gialla in Umbria dal 26 aprile qualcuno ha prenotato una stanza per fare un weekend fuori città. C'è stato il ponte del primo maggio che comunque ha dato qualche piccolo risultato non eclatante da far guidare siamo ripartiti e l'economia sta decollando nuovamente a livello turistico ricettivo ma comunque c'è stato un interesse da parte anche di coloro che volevano passare un weekend in Umbria. Ma l'incertezza è ancora molta e non tutti hanno riaperto. Le strutture che hanno riaperto nel territorio dell'Umbria sono quasi il 50% e tra questo 50% contiamo solo le strutture medio piccole a gestione familiare perché le grandi strutture più organizzate, più strutturate hanno ancora fatto la scelta di non riaprire visto ancora i momenti non propizi per poter ospitare le persone visto che ancora è molto lenta la ripartenza. La stagione vera e propria noi la pensiamo come ripartenza per giugno, da giugno in poi. Un'attesa quella per gli albergatori che dovrà fare i conti anche con la paura per i clienti di entrare in contatto con altre persone all'interno delle strutture ricettive. Per quanto riguarda fidarsi di entrare in un albergo ancora c'è diffidenza perché nell'immaginario collettivo il turista nella prima scelta che fa è quella della casa appartamento vacanza o dell'agriturismo del country house perché cerca di evitare gli assembramenti che si possono formare all'interno degli alberghi. Gradualmente quando si attenuerà questa psicosi che si è formata all'interno delle menti delle persone e dei potenziali turisti credo che poi gli alberghi ripartiranno. Il ritorno alla normalità è tutto quello in cui sperano gli albergatori. Spero che con l'apertura, con le regioni che ci si possa muovere si riprenda perché abbiamo proprio bisogno di lavorare e di riprendere una vita normale. Timida ripresa delle attività ricettive sul lago Trasimeno, fra iniziative istituzionali e timori degli esercenti. Il servizio di Marco Moroni. Il Covid ha fermato le tante attività sul lago Trasimeno. Al confine fra Umbria e Toscana i borghi affacciati sul lago hanno sempre ospitato turisti in arrivo da tutta Italia e dall'Europa continentale, la fonte di sostentamento principale per albergatori, commercianti e ristoratori. Questa stasi si sta prolungando in realtà perché è vero che da oggi hanno riaperto le regioni, è vero che siamo tornati in zona gialla, è vero che c'è una sorta di ventata di ottimismo, ma la gente purtroppo ha paura. Quindi nei mesi di riferimento, quindi luglio ed agosto avremo sicuramente prenotazioni, ma stiamo parlando di numeri che rispetto all'anno scorso per esempio, che comunque sia era un periodo molto particolare, non è nemmeno del 25%. Qui a Passignano sul Trasimeno cominciano a tornare i primi turisti e si registrano le prenotazioni di famiglie e gruppi di amici. E anche se la ripresa è un orizzonte ancora lontano, amministrazione comunale e esercenti sono al lavoro perché le attività possano riprendere in piena sicurezza. La chiusura della strada principale del lungolago a noi ha permesso di far uscire i ristoranti che hanno poco spazio con i tavoli sulla strada, quindi permetterà di vivere in sicurezza il lungolago, di farlo diventare appetibile ai più, dalle famiglie al turista, sia occasionale che quello con scadenza e permanenza più lunga. Soddisfatti i gestori degli esercizi che si affacciano sul lago e c'è anche chi ha deciso di avviare una nuova attività. Sono veramente felice e auguro che tutto vada bene, per il momento e nel futuro. E ora a Todi con Marco Di Vincenzo che ha raccolto le voci di ristoratori e baristi, anche loro in attesa di una vera ripresa. Il servizio. Nel 1991 l'architetto Levin dell'Università di Lexington negli Stati Uniti la definì la città più vivibile del mondo. Da allora Todi, comune di circa 16.000 abitanti nel cuore dell'Umbria, ha conosciuto un'espansione turistica senza precedenti. Migliaia di visitatori, moltissimi dei quali stranieri, hanno popolato ogni anno le sue piazze e i suoi vicoli. Il Covid ha rallentato tutto, ma le cose stanno lentamente tornando alla normalità. Da qualche settimana bar e ristoranti hanno riaperto, concedendo di nuovo ai clienti la possibilità di consumare i tavolini, ma solo all'esterno. Speriamo innanzitutto di tornare a vedere i nostri clienti, in particolar modo i stranieri. Tantissimi hanno anche la seconda casa, tra cui aveva casa proprio qui vicino al ristorante nostro, l'Isley Camp, il coreografo, e poi anche gli italiani come l'anno scorso che ce ne abbiamo avuti tantissimi. I ristoratori però criticano il coprifuoco, una misura che per loro dovrebbe essere più elastica oppure andrebbe abolita. Il coprifuoco è un altro fatto, per chi finisce il lavoro alle 8 di sera è quasi impossibile venire a cena e poi dopo alle 10 meno 5, alle 10 meno 10, 10 meno un quarto dovesse alzare e andare via. Si perde anche quella rilassatezza, diciamo, convivialità del mangiare. E iniziano a tornare anche i turisti stranieri. E' sempre meglio dell'arancione. L'occasione è sempre buona, anche per una gita fuori porta. Veniamo da Cortona, Toscana, quando abbiamo approfittato per pranzare fuori, ora che si può fare, penso che sono mesi, mesi, non ci ricordavamo neanche più come si facesse. La pandemia ha cambiato anche il settore del make-up che risente di nuovi stili di vita e della sospensione degli eventi, come ci racconta Silvia Serafini. Secondo uno studio di Intesa San Paolo, il fatturato del comparto make-up nel 2020 ha subito una riduzione del 12,8%. Anche in Umbria l'effetto Covid ha pesato sulle aziende del settore. Tra queste c'è la Artex di Todi, un piccolo laboratorio che fornisce linee di trucchi a make-up artist di tutta Italia. Con il fatto delle chiusure, specialmente dei centri estetici, spa e così via, logicamente ne ha risentito tutta la catena. Un comparto, quello del trucco, che deve fare i conti con la diffusione dell'uso della mascherina. Determinati prodotti non si utilizzano. Con il fatto della mascherina, se noi consideriamo rossetti, pard, fondotinta, logicamente hanno avuto un calo drastico. Importante è l'impatto del Covid anche sul mondo del trucco professionale. Ci sono tanti settori dentro al mio settore. Diciamo che uno dei settori che è praticamente morto è il matrimonio, perché non ci sono più matrimonio. Perciò chi trucca soltanto ha matrimonio, ha sofferto tanto. Io invece lavoro in tanti settori, faccio trucco per la televisione, per la fotografia, per le sposa e insegno. Alla scuola di make-up ed estetica di Bastia Umbra, dove Nuala tiene il corso di trucco professionale, oggi ricominciano le lezioni in presenza, dopo oltre due mesi di stop, durante i quali si sono svolte lezioni via web. Un settore che invece è in crescita è quello dei corsi di autotrucco, complice lo smart working che spinge le donne a guardarsi con la webcam. Dobbendo lavorare da casa, dobbendo guardarsi allo specchio, dobbendo stare a casa tanto, le donne hanno iniziato a guardarsi di più. Io hanno iniziato a dire, vedi che magari posso migliorare le sopracciglia, truccarmi di più, che magari una cosa non andava in ufficio. Non mi stavo guardando alle specchie, no? Perciò questo è cresciuto. Il Covid ha messo in crisi botteghe che in Umbria vantano una tradizione storica. Gli artigiani di Perugia però studiano nuove strategie per ripartire. Il servizio di Maria Francesca Stabile. Questo momento di stop obbligato ha dato la possibilità di riflettere su nuovi progetti e dedicarsi anche a collaborazioni commerciali importanti. È il caso del Museo Laboratorio Giuditta Brozzetti che nel 2020 ha collaborato anche con marchi di alta moda italiana. Purtroppo con il Covid abbiamo avuto un crollo assolutamente verticale, sia di visitatori che ovviamente di conseguenza di fatturato. Abbiamo ridotto le ore di lavoro, però abbiamo deciso di non sospendere né appunto chiudere l'attività. Ora ci troviamo un po' in affanno perché ovviamente puoi reggere un anno senza vendite, senza affluenza, ma due inizia ad essere abbastanza faticoso. Anche Matteo Pazzaglia, artigiano del cuoglio, in questo periodo lavora soltanto con le piccole riparazioni a scarpe e cinture ed ha dovuto rinunciare ad un indotto davvero esclusivo. Lavoriamo per dirti anche per la creazione di calzature per rievocazioni storiche, come potrebbe essere Perugia 1416 e anche quella, diciamo, questi due anni, cioè d'anno scorso e da marzo hanno interrotto le rievocazioni, quindi non abbiamo più lavorato. L'arte della ceramica su Via dei Priori soffre l'assenza dei turisti, riportando un calo del fatturato del 70%. Questo offre lo spunto per investire su nuovi mercati come quello estero. Abbiamo un canale in Giappone, abbiamo continuato a esportare, a fare delle spedizioni per loro. Il turista manca parecchio, adesso si sta ricominciando a vedere un pochino di movimento, quindi speriamo che le cose migliori. La madre di Caterina, che collabora con la figlia nel laboratorio, è anche presidente dell'associazione ArtiCity, nata nel 2009, con l'obiettivo di diffondere e tutelare l'artigianato umbro. L'artigianato artistico in Umbria ha proprio tanta storia e tante competenze, che ancora ci sono, ma potrebbero sparire se non vengono sostenite. Storica è anche la bottega di Alta Sartoria di Pompeo Chiattini, un atelier che dagli anni 60 è un punto di riferimento per la moda maschile. Lo ha incontrato Ludovica Passeri. Oggi, con la mia esperienza che ho, io potrei fare un abito senza vedere il cliente. Pompeo Chiattini è nato a Cerqueto, una frazione di Marsciano, 82 anni fa. E appunto io, già a dieci anni, incominciavo a tenere l'ago d'Italia in mano. Queste forbici sono ereditate dal mio maestro qui di Ferugia. E a quell'epoca non si guadagnava molto. Sono andato in Inghilterra a lavorare, al centro di Londra, una traversa di Carnaby Street. Siamo alla fine degli anni 60. La sua era facile, divertissima. Poi ho conosciuto, tra le mie persone, un grande mio cliente, Al Fayette. Era sempre elegante, con camici di seta, con abiti doppio petto. Quando sono venuto dall'Inghilterra, qui a Perugia, avevo tantissimi clienti. E poi mi chiamavano un po' il sarto inglese. Ma i tempi sono cambiati. Purtroppo è stato un po' dimenticato l'artigianato in genere. Ma se parliamo della sartoria, si può dire quasi niente è stato fatto. E allora è nato in me questo abbandono. È venuto fuori che mi sono un po' lasciato andare. E questo mi fa dispiacere. Nel suo laboratorio a Perugia, un museo di ricordi e creatività, Pompeo continua, nonostante tutto, a coltivare l'amore per il suo lavoro. Sì, ho fatto delle tasche con dei pozzini di una camicia che doveva essere fatta la manica corta. La creatività è un qualcosa che viene fuori da se stessi, che generalmente la gente non conosce. Ed è tutto per questa edizione coordinata da Luca Bianco. Ringraziamo Lucio Piermaria e Lorenzo Tardioli alla regia. Vi auguriamo una buona serata. Grazie.